ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti sala operativa tutti contro tutti mamma mia ritorniamo su gears of war quindi come vedo dei nemici io devo sparagli benvenuti a tutti questo nuovo video con gears of war con io che proprio sono bravissimo a giocare come ma c'è sto perché c'è soltanto questa arma minchia preso in pieno a perché sempre soltanto col gnasher no capito io in sto cazzo di mondo di gears of war mamma mia si deve giocare soltanto questo cazzo del fucile e questi qua che mi si avvicinano mi ammazzano fermi tutti è una roba incredibile non bisogna neanche mirare in questo gioco basta che ti avvicini a uno stronzo it's a new day yes it is no mamma mia che dupalle sta modalità ma almeno uno lo devo ammazzare almeno uno stronzo uno fatemi felice e niente quello lì proprio non si ha voglia di subire i colpi sto stronzo o voi che siete più esperti sicuramente di me in gears of war se avete dei consigli da darmi per migliorare in gears of war datemeli pure non ho assolutamente problema a prenderli perché io sinceramente gears of war non ci ho mai giocato online mai la mira bene affanculo a me che tento di fare roba col cerchino cristoforo colombo ah sono già in vita ovviamente ho già perso tutte le armi perfetto qua l'avevo persa dai dimmi che la ritrovo per terra porco satana ecco quello là arriva me ciula la kill ma è mai possibile oh se qua c'è il coso cambia arma lo so che sei bloccato qua no bastardo può scappare sto stronzo infame ma l'affanculo ripeto se avete dei consigli da darmi come su come migliorare su questo doc datemi sicuramente la sensibilità però vedo che non fa uh si no perché si è mosso però l'ho accoppato mi sento forte cazzo ho preso mulcher intanto ti ciulo le munizioni che tanto a te non servono amma mia in rage se l'ho fatta uccidere due perché ho capito che in sto gioco non bisogna mirare non bisogna mirare assolutamente non bisogna mirare bisogna andare vicino al no cambia arma bisogna andare vicino al tizio e sparare a caso senza mirare proprio fa tutta la zettata del gnasher da quello che ho capito è incendiaria è tanto sono bloccato qua io ah 36 morti io quanto ho fatto? 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 voglio vedere la miglior giocatura della partita non mi interessa ho fatto 2 set credevo pure pezzo andiamo alla prossima partita che finca il guerriero migliore eh mortacci su da guerriero migliore nether cut ma vaffanculo a frebio questo qua che non mi moriva maledizione a me aio va che l'ho visto strong zone va che l'ho eh lo avevo trovato anche io quell'arma lì brutto buzzurro devo prendere le power weapon no quello mi fa brutalmente non ho voglia di morire brutalmente eh la miseria vabbè che se incontro anche gente che adesso è leggermente un attimino più esperta di moi a fare robe a fare robe a vec questo gioco posso cadere giù? no perfetto questo gioco è una roba incredibile proprio la potenza che posso buttarmi addosso sti stronzi no mamma mia si sono ammazzati a vicenda minchia minchia dubot mi ha ammazzato 100% di danni almeno non voglio essere ultimo via che la regina mi assista ma vaffanculo e ovviamente torna indietro uccidermi perché ci mancherebbe anche ci mancherebbe anche ma davvero c'è sta modalità dove si gioca solo col gnasher o è proprio tutti contro tutti che è una roba del genere la bastarda ah era un altro vabbè ci siamo capiti comunque io lo miro ed ero mirato io ho fatto 59 di danno lui 100% in due colpi senza mirare perfetto ok ripeto se c'è qualcuno che la sa più lunga di me ovviamente il mio non è un lamentamento perché gioca così se io non sono mai giocato bisogna anche vedere il grado di mira che hanno gli avversari che sicuramente è migliore del mio però davvero se c'è qualcuno che sa dirmi un po' come migliorare in questo gioco me lo dica pure perché comunque Yes of War l'ho giocato soltanto in modalità orda o comunque me ne faccio grazie mille che mi viene da dietro o comunque la modalità campagna che mi è sempre piaciuto il multiplayer l'ho quasi sempre saltato saltato non me ne sono mai fatto più di tanto io sinceramente di giocare multiplayer in questo gioco anche se un paio di partite e vaffanculo perché ho sprecato la granata porca troia spawnami la granata sto fermo qua lo spawn della granata incendiaria e dai granatina e spawn se no sto dietro qua le porte non c'è problema annaggia io un colpo 5% lui due colpi 100% che cosa c'è di sbagliato in quello che faccio come ho fatto a fare 100% un colpo oddio lo so ce n'è uno dietro meno ne ho ucciso uno no mi sa che l'ho atterrato soltanto uno perché mi sa che c'è stato un piccolo problema di lag perché non ho capito assolutamente cosa è successo però va bene cioè va bene lo stesso quello che è successo sì ci siamo uccisi a vicenza sì prima l'ho atterrato soltanto mortacci mia il primo a sedizi che è sta roba lanza il retro no come facevo volevo ucciderlo con la baionetta mortacci mia mortazzazzi mia mortangolieri dove sono le granate incendiarie ma se stavi a sparare l'altro e continuo a sparare l'altro no ma vaffanculo che avevo la motosega no la buzzkill l'ammazza sega la mazza sega è importante è importante come nome ma vaffanculo che sto pure portato un pochino baionetta però ti ho fatto il dito medio ci ho goduto abbastanza ci ho goduto abbastanza che ti ho fatto il dito medio prima di ucciderti mancano soltanto 6 kill all'avversario per portare a compimento la sua vittoria prossima volta mi sa che mi metto a cercare le partite normali perché con questo qua tutti contro tutti sono già contento di aver fatto 3 kill se devo essere sincero come dire mi posso ritenere felice bastardo tele uova di pasqua di mierda che saremo anche in tempo in periodo in questo periodo credo credo è l'arco è ancora qua abbastarda una volta con l'arco ero abbastanza buono soprattutto in modalità orda me la cavavo abbastanza ortacci vostra e deduti gli sandali della regina no mi avevo fatto danno ma ha ciulato la kill che l'ha battuto e me l'ha ciulata e ha vinto lui spero che questo video vi sia piaciuto ditemi sotto nei commenti qualche consiglio per poter migliorare abbiamo fatto 3 18 noi ci vediamo alla prossima sperando con i vostri consigli